Ci vediamo su un tema importantissimo a mio punto di vista che è il tema dell'umorismo. Umorismo come possiamo utilizzarlo nel mondo delle aziende? Spesso secondo me c'è una totale totale confusione fra l'intendimento e la persona giusta per aiutarci a capirci di più è Giovanni Vernia eccolo eccolo! Buongiorno! Ciao Monti! Buongiorno Monti, ciao! Quanta sopravvalutazione in questa presentazione! Come stai? Sto benissimo, sono venuto nella mia Milano dove mancavo ormai da dieci anni, ci ho vissuto dieci anni in Milano. Ero molto felice, Milano è la città della felicità. Qui non vorrebbe vivere a Milano, ci sono questi quartieri a cui hanno dato adesso i nomi inglesi hanno dato i quartieri, no? Nolo, North of Loretta, dove tu compri un pezzo di torta e costa 8,50 euro, cioè a Londra costa meno, no? E nome inglese, perché se tu lo chiami come si chiamava il mio quartiere, io vivivo un po' alla periferia di Milano quando sono arrivato a San Leonardo, conoscete San Leonardo? San Leonardo? Molto per io, quasi... Sì, esatto, sì, molto oltre, molto oltre diciamo. Ecco, quello l'hanno chiamato Quame adesso come quartiere. Quartiere di merda, era un quartiere di merda. E quindi volevo subito settare il livello del formazione. Dopo il CEO di Venchi e tutto quanto, ho detto vabbè, senti. Senti, mi ridici la differenza tra i Liguri e i milanesi, i genovesi e i milanesi, perché quando abbiamo chiacciato tutte le volte, ti giuro, ero caduto dall'asse. Andiamo lunghi, io te lo dico, andiamo lunghi. Giusto un accenno, perché per chi non lo sapete, la differenza è importante. Io sono cresciuto ovviamente a Genova, sono cresciuto a Genova, Genova è celebre nel mondo per tutti, pensano che Genova sia perché sono famosi, perché sono un po' tirati, sono di un braccino corto. Invece la cosa del Ligure è che è pessimista, è arrendevole, è sconsolato. Quindi io mi ricordo a Capodanno, questo episodio, io da piccolo, ero un bambino pieno di gioia, di voglia di vivere, andavo per fare gli auguri al mio vicino di casa e da fuori sentivo, Dugherli, ho sentito che botti fuori. Eh sì, sarà a Capodanno. Allora auguri, ma cosa vuoi fare gli auguri che tanto se le cose devono andare male, vanno male lo stesso. E questo è l'ottimismo e la cosa in cui sono cresciuto, anche quando appunto andavo all'asilo, no? Io ero un bambino pieno di voglia di giocare, tutto, dai giochiamo nascondendo da me, ma cosa vuoi giocare a nascondendo? Che tanto alla fine ti trovano sempre. Questi sono tutti aneddoti che non è che me li sono inventati, è la verità. Poi da Genova mi sono trasferito a Milano. Mi sono trasferito a Milano perché? Perché a Milano perché a Genova mi sono laureato in Ingegneria Elettronica col massimo dei voti. È uno scherzo o è vero? No, è la verità. Come il film, bravissimo, come il film mi sono laureato in Ingegneria Elettronica. Dico sempre che sono l'esempio vivente su questo palco che al giorno d'oggi, anche per fare il deficiente, il diploma non basta. Ci vuole la laurea. E quindi sono arrivato a Milano in cerca di fortuna e l'ho trovato perché ho iniziato in una società di consulenza americana a fare l'ingegnere. E mi sono d'accordo che Milano è invece totalmente diverso. Perché Milano è pieno di voglia di fare, di brio, di cose. Andiamo alle Piave, andiamo al mare. E lo facciamo insieme. Io sono rimasto spiazzato perché ero abituato a Genova. Andiamo al mare, ma dovevo andare che tanto non troviamo parcheggio. Sono rimasto un po'. Però questo è cabaret, capito? È proprio la verità. Quando hanno fatto l'acquario a Genova, l'Expo, conoscete tutti, l'avete visto, Genova è il centro del mondo, giornalisti da tutto il mondo perché Genova veramente è Renzo Piano, architetto internazionale. Io, Genova, doveva essere orgogliosa. Stavo guardando il TG3, arriva un signore sulla sessantina, giornalista. Hello, what are you talking about? E lui, cosa l'ha detto? Cosa ne pensa dell'acquario, quest'opera straordinaria per Genova? E lui, guardi, è bello, è bello, per carità. Ma che bisogno c'era di fare l'acquario che c'è già al mare. Cioè, non gliene frega niente, capito? Ma ci sono neve, potrei andare avanti un'ora, capito? E quando hai cercato casa, hai trovato differenza sulle case? C'è anche l'agente immobiliare che rispecchia le caratteristiche del luogo di appartenenza, perché il genovese, tu vai a vedere queste case meravigliose a Genova, a Nervi, Genova a Nervi, si affaccia sul mare, c'è la risacca sotto casa, il sole, tu guardi, io questa casa gliela faccio vedere, ma c'è sto problema qua che ci batte il sole tutto il giorno. Poi vede quasi, si vede tutto il Golfo del Teguglio, cioè il mare che le ragionisce le ringhiere. Quindi una cosa bella, a Milano venderebbero, no? Invece a Milano si sanno vendere qualsiasi cosa. A Milano è proprio il marketing, a Milano entri in una casa, guardi, le faccio vedere questo immobile di Pregio. Ci sono i topi che camminano così, no? Gli fa, guardi, vede, questo è un open space, scusi, open space in che senso? Non vedo il tetto, appunto, è open space perché cercava anche un tetto. Sì, allora andiamo su un budget sensibilmente più alti, così. Vede, qua si affaccia sul vicino. Questo è il bagno del vicino. Eh, ma non c'è mai, però. Vabbè, sei scemo, eh? Senti Giovanni, come si fa quando si parla di argomenti pallosi come i nostri, no? Di business, cose, che manca di... Dall'altro lato, io lo vedo, no? Comunicando sui social, se tu trovi una cifra comunicativa che sia più ingaggiante, dove ci sia anche un po' di simpatia, non è che devi per forza essere super serio, super professionale, no? Chiaramente funziona molto meglio, però il problema è che a volte vedo l'eccesso opposto dove, a dire le aziende che magari devono essere simpatiche a tutti i costi, che ha una tristezza super cringe, no? Sì, sì. Qual è secondo te, per partire, dire, ok, l'umorismo, come possiamo metterlo dentro questo mondo? Vai, intanto crederci, perché si pensa, come hai detto giustamente tu, si pensa che professionalità sia uguale a serietà. E non è sempre così, nel senso che essere... fare umorismo durante la vita lavorativa, che poi, non lo dico io, insomma, ci sono statistiche, no? Che appunto, assolutamente, che noi viviamo gran parte della nostra vita al lavoro, quindi perché viverlo come un sacrificio? Io ho lavorato appunto per dieci anni in società di consulenza dove la sofferenza era il mantra principale, cioè nel senso che dovevi soffrire, dovevi essere proprio serio e impostato, i tuoi capi erano seri, erano quelli che io a Milano uscivo alle otto di sera dall'ufficio, dicono, uè Gio, cos'è? Mesa giornata, questa roba qua. Quindi, capito? Era... però erano sempre molto rigidi, molto... ma non solo nella vita lavorativa, anche personale. Io li sentivo parlare con i... con la mamoglia, cioè sempre molto impostati. Quello si pensa che... spesso si confonde questo atteggiamento con un qualcosa che porta maggior produttività. Però invece è un'arma a doppio taglio, perché questo atteggiamento crea quello che si chiama stress. Perché sei stressato? Vivi in un ambiente che è costantemente sotto pressione, di serietà, di tristezza e quindi arriva lo stress. Lo stress è il nemico della produttività, perché uno stressato sta assente per malattia, sta assente perché ha una scarsa motivazione e quindi il... non funziona. Non funziona. E la soluzione qual è? La soluzione è utilizzare l'umorismo, perché non lo dice Giovanni Verni, non diceva Freud, l'umorismo è il più potente meccanismo di difesa dello stress. È un potente antidepressivo che abbiamo dentro di noi e che reindirizza verso l'esterno tutte le tensioni negative a cui siamo sottoposti. Sul lavoro abbiamo forse la maggior parte delle nostre tensioni negative. Quindi usare l'umorismo al lavoro è cosa buona. È cosa buona perché? Perché crea un ambiente positivo, perché al leader fa acquisire quella che è tanto nota come leadership, no? Quindi non autorevolezza, non autorità, ma autorevolezza, carisma. Cioè una persona che riesce a utilizzare l'umorismo durante una presentazione e che riesce a farti ridere o sorridere all'inizio della presentazione, a catturare l'attenzione e poi riesce a fare il suo discorso, no? È professionale perché sei restudiato, perché sei preparato e tutto quanto. È una persona che è capace di catturare l'attenzione in quel modo e dimostra di avere una sicurezza incredibile rispetto a uno che invece fa una presentazione totalmente impostato, monocorde, con quel tono noiosissimo. Dici, guarda, caspita, è talmente sicuro di sé che non solo mi sa fare una presentazione professionale, ma sa anche uscire dal seminato e farmi sorridere, giocare ci sono. Anche deve essere doppiamente bravo, no? Perché deve saper fare magari tutti i vari... Esatto. E quello è il carisma. E lì cresce il carisma. Quindi in ambito lavorativo, io ero uno che la malattia dell'umorismo ce l'ho sempre avuto da piccolo. Sono diventato ingegnere, ma mi avevano scritta matita sull'album perché avevano visto che c'era qualcosa che non andava. Però l'ho sempre fatto nelle riunioni, quando facevo, lavoravo in Accenture, che è una società di in Accenture. Io ho lavorato in Accenture per un anno, anche tu, con degli Anze. E capito? Quindi, no, poi ho lavorato in altre... E ancora e me il sponsor delle... No, scherzo! Con degli Anze! Con degli Anze! Scherzo, scherzo! No, poi sono passato in un'altra società di consulenza. Poi sono diventato incredibilmente il country manager per l'Italia di una società americana che si occupava di web marketing. Quindi gestivo un sacco di clienti grossi in Italia, gestivo l'aspetto commerciale. Sono arrivato in questa posizione, però ero... Io ho sempre usato l'umorismo. Io se andavo in una riunione di Accenture, dove erano sempre stati tutti i seri, ed erano riunioni col cliente, io ci dovevo sempre mettere qualcosa per... per stemper, per idramatizzare. Tant'è che il cliente si era affezionato... Cioè, nel senso, quando doveva andare il manager, al manager diceva, no, ci mandi Vernia in riunione, no? Perché erano riunioni, ora non è per fare il fenomeno, però erano riunioni più piacevoli. Certo. L'umorismo spesso si confonde con uno che fa ridere. Esatto. Invece non è uno che fa ridere, l'umorista è uno che riesce anche a... io dico, non fa ridere, fa sorridere. Essere umoristi è essere in grado di mettere le persone a proprio agio. In una riunione spesso c'è questa inibizione a dire la propria, perché c'è sempre questo clima teso, no? Dice, magari mi giudicano, poi noi viviamo un'esistenza basata sul giudizio, perché anche i social hanno dato questa cosa, no? Totale. Perché noi siamo sempre sotto posto. Oppure perdi il cliente, stai zitto, non dirla, però sbagliata. Stai zitto, bravissimo. O il capo che poi... Sempre questa cosa. Essere umorista significa creare anche un ambiente dove, diciamo, ognuno è a proprio agio a dire la sua, senza sentirsi giudicato a tutti i costi. E quello è già umorismo. Cioè, empatia è il primo passo per l'umorismo. Creare empatia con le persone. E come si fa? Esatto. Infatti, la domanda che poi sembra facile, però nella maggior parte dei casi vedi che... E come si fa? Beh, allora, il primo passo... Secondo me è l'umiltà. Mettere da parte l'ego. Siamo sempre molto attenti al nostro ego, no? E però quello ci crea degli schermi con le persone. Quindi una delle cose fondamentali per fare umorismo è praticare l'umiltà. Tant'è vero che l'umorismo che funziona di più è l'autoironia. Giusto. Se tu vuoi fare umorismo e non vuoi sbagliare, non vuoi offendere nessuno, non vuoi essere fastidioso, non vuoi essere considerato il giurale di corte lo scemo, fai autoironia. Ti prendi in giro da solo, il massimo che puoi fare è che ti offendi da solo. Ma allora sei un cretino. Cioè, sei un pillo e non è... Quindi... Ma a casa risperò. Ma a casa risperò. Ma a casa, mi sono offeso. Capito? Quindi quello... E ti metti in uno... Quella è un'arma fantastica perché tu metti proprio il tuo interlocutore a suo agio perché tu abbassi il tuo status, no? E lui si sente al suo agio e dice, caspita, guarda, sono proprio contento di stare davanti a questo inferiore che si prende in giro davanti a me. Ed è fantastico, è un'arma incredibile. L'autoironia è una cosa... Però per fare autoironia devi essere umile perché se non sei umilo non ammetti i tuoi difetti. Perché per fare autoironia devi conoscere i tuoi difetti. E noi siamo sempre molto attenti a nasconderli i nostri difetti, no? Basta guardare quando ci facciamo una foto e la mettiamo su Instagram, siamo attenti a fare la posa giusta, no? Il bicchier, l'aperitivo che non si vede l'orecchio perché magari, no? Il filtro. E invece no, noi dobbiamo concentrarci sui nostri difetti perché quelli lì sono le nostre armi per fare umorismo. Perché se io mi prendo in giro sui miei difetti e ci vuole tanta umiltà perché li devi conoscere. Però se come me non hai difetti come fai? Non puoi essere un grande umorismo. Se noti, Daniele Ferreo prima, che è una persona molto competente e sa, il suo mestiere lo sa e non ha bisogno di convincere nessuno perché è come dire, prima parlando ha detto eh sì, noi abbiamo aperto in Brasile, abbiamo perso 3, 3 milioni, 4 milioni, è stata una scuola di business gratuita, cioè a pagamento che abbiamo... Io ho sentito, quando l'ha detto ero dietro, ho sentito una fitta al cuore io, ho detto 3 milioni, ho perso 3 milioni. Però lo vedi, cioè nel senso si è auto flagellato, ma perché non ha bisogno come dire di affermare il suo status? Sì, sì, sì. Questo capita di sbagliare, certo 3 milioni di euro sono tanto, però voglio dire, se è è talmente facile giocare sui propri difetti, cioè si fa molta meno fatica a giocare sui nostri difetti che nasconderli. Noi spendiamo un sacco di energie per cercare di nascondere i nostri difetti e invece è molto più facile, è quello il primo passo per l'umorismo. Dovete sapere che abbiamo avuto uno scambio di messaggini, perché a un certo punto io ho chiamato e detto, vieni facciamo una chiacchierata, facciamo una chiacchierata. Poi c'è stato uno scambio di messaggi tra il team mio che ha detto, no, però sarebbero belle delle slide, no, per riepilogare. Sì, domenica. Allora, sono arrivate ieri, nelle prove, arrivano le slide. Ho fatto le slide. Ok, arrivano le slide e io vedo che Sergio mi dice, guarda ci sono le slide, dico, ma no le slide. Mi prendo le vocali. Allora lo chiamo e dico. Lo faccio ascoltare perché è molto... Sarebbe da caffoni far ascoltare il vocale. No, ma perché era carino, cioè era... Aspetta, no, ce l'ho ancora, no. Di solito quelli brutti li cancellano, questo e questo l'ho tenuto, perché domani lo faccio sentire. Ho guardato il vocale, perché ho visto le slide e ho pensato... Aspetta, era meraviglioso. Magari non è il caso. Posso? Poi interro per la diretta, un secondo. Allora. Ma ciao caro, come stai? È proprio come la puntata, l'ha buttata lì proprio con grande empatia, grande... Esatto, il messaggio era... Grande, grande... Ma ciao caro, come stai? Ascoltami, noi domani abbiamo tutta una giornata in sostanza senza slide o presentazioni, quindi anche tra noi facciamo una chiacchierata super informale, io seguo un po' gli argomenti e ci siamo detti, però senza slide o altre cose, insomma, questo ci tenevo a segnalartelo. Tanto tu sei bravissimo, abbraccio. Questa è la lecchiatina per Giusto... Cioè, è proprio... Cioè, quando dici autorità o autoregolenza, è proprio... Domani non si fanno le slide. Il sottotesto era domani le slide e tu non le usi. E io ho detto, ma io non le volevo usare. Lui che non voleva... A questo punto, però, mentre ho fatto il messaggio, poi ho detto a Sergio, dai, dai, vedi quella cagata di slide che mi ha mandato. Poi guarda, lui ha detto, però non sono male le slide, quindi l'ho richiamata. E lui ha detto... Guarda, adesso vi faccio vedere una... Vuoi fare... Ve lo so, vuoi che faccio vedere? Perché secondo me, invece, c'erano... A parte ci sono alcuni video e alcuni concetti che mi sembrano carini. E quindi l'ho richiamato a Sergio, però qualche slide... E lui ha detto, cazzo, vuole slide o non vuole slide? Questa è la più importante, questo è il mio modulo di formazione per le aziende, dove insegno appunto come l'umorismo aiuta il business. Quindi prendete nota, segnatevelo, c'è il manager lì, prendete la nota di umano. Vi faccio vedere un video, un altro video, perché questo è significativo. Andiamo avanti qua. Questo video qua, quello è dell'assistente di volo. Allora, prima faccio un piccolo preambolo. L'assistente di volo è un mestiere, ti fanno l'annuncio, eccetera, eccetera. Io ho preso l'aero stamattina. Di solito non c'è questa empatia, perché è un lavoro molto ripetitivo, cioè lo fanno abbastanza... Oh, signori, benvenuti... Ci sono romani? In streaming, dico, in streaming. No, perché diciamo, lo fanno un po'... Signori, signori, benvenuti a bordo di questo volo. Aida, se poi lo fanno in inglese, all'assistente di volo lo fa in un modo molto particolare. Ok? Vai. Signori, benvenuti a Milano, Martinsa. Dove sono le ore 10 e 50 del mattino. Il nostro atterraggio è avvenuto con 20 minuti di anticipo. Ricordatelo del caso la prossima volta dovessimo essere in ritardo. Per garantire la vostra sicurezza, vi invitiamo a rimanere seduti con le cinture a nascere... Fino a quando un apposito segnale verrà spettato, che l'aereo mobile avrà raggiunto la posizione finale di parcheggio. Assicuratevi di non dimenticare nulla a bordo, come soce nei mariti, poiché ne verranno comunque restituiti. La controllate nella tasca del sedile sotto il sedile nelle cappelliere, che dovranno essere avverte con cautela o di evitare la caduta di oggetti. Ricordiamo inoltre che non sarà consentito fumare fino al raggiungimento di un'apposita area per fumatori, che a malpezza non esiste. Tutti i dispositivi elettronici, compresi i telefoni cellulari, dovranno essere tenuti spinti fino all'apertura delle porte. Non è inutile nascondersi tra i sedili per accendere il cellulare. L'equipaggio vi vede e soprattutto vi sente. Infine, a nome del comandante dell'intero equipaggio, vi ringraziamo di aver volato con Easygetto e non con gli altri. Vai, vedici. È straordinario. È straordinario. È bravissimo. Allora, è fastidiosa una cosa del genere? Non mi sembra proprio, anzi, questo signore ha un grande carisma, perché ha fatto una cosa che tutti fanno nello stesso modo, magari anche in modo macchinoso, invece meccanico, scusate. E lui l'ha fatta invece mettendoci del suo e usando l'umorismo. E quindi lascia un'immagine molto più potente, un'esperienza pazzesca nel viaggiatore, che oggettivamente, ora, io non so se hai dei contatti con questo brand, però... È me il sponsor. Ah, capito. Però non è che sia un'esperienza straordinaria fare un viaggio. Io delle volte devo staccare le tibie e metterle qua. Poi sei fermo così. Sì, sei così, sembra. No, e quindi... E invece il brand acquista proprio un allure. Ha un'identità col tipo. E quello lo fa l'umorismo, è magico in questo senso, no? Senti, che suggerimenti daresti? Stavo guardando loro perché... Sì, e l'ho detto che andavamo lunghi. No, sto guardando loro perché so che poi devi andare... No, io guarda, fino alle 5 e mezza ce l'ho. Ok, va bene. Allora andiamo avanti fino alle 7 e mezza. Perché... Eh, impachi l'altro aereo. Cosa... Cosa vedi come suggerimenti... Perché poi lo sai, chi lavora in un'azienda poi ha tipo la checklist, no? Sì. Allora, numero uno, guardare negli occhi. Numero due... No, come suggeriresti di avvicinarsi per essere, come dire, più... Allora, ti dico, primo passo, come ho detto all'inizio, è l'umiltà. Cercare di mettere da parte il problema e cercare di mettersi a disposizione del prossimo. E' quello il primo passo per creare l'umorismo. Dopodiché bisogna cercare di evitare la spiritosaggine. Se no diventi fastidioso. Perché c'è sempre quello che si sente molto simpatico, perché fa ridere tutti gli amici della compagnia, e poi lo fa anche nell'ambito lavorativo. Però ci sono dei criteri che ti fanno superare il confine tra umorismo e diventi lo spiritosone di corte. Ed è banalmente il classico gatto attaccato lì. Cosa significa? Significa che l'umorismo è una forza, dicevamo prima, che allenta le tensioni. È una forza magica, l'antistress naturale che abbiamo all'interno di noi. Ci sono delle cose che, tipo, il gossip. In azienda c'è, per fare i fenomeni simpatici, per ridere un po', si usa il gossip sul collega, magari c'è l'attresca, si conosce, c'è quello che ha fatto un errore, allora si ride su questo. Quello è fare gli spiritosi. Quello, avvertite, questo crea tensione, non è umorismo. Che ridi a danno di qualcuno. A danno di qualcuno. Stessa cosa la volgarità. Spesso si usa la parola volgare, l'espressione volgare, perché si pensa che usando quelle espressioni si toglie uno schermo fra noi e l'interlocutore. Si entra più in confidenza. Però non sappiamo mai se all'interlocutore questa cosa è gradita oppure a qualcuno che ci sta ascoltando in quel momento. Quindi la volgarità è una cosa che, diciamo, in ambito lavorativo abbassa il nostro status, che è una cosa positiva nel caso tu lo faccia con l'autoironia, però lo abbassa dal punto di vista professionale. E quello è un'interlocutore. Sembra che abbiamo un quadro astratto dietro di noi. Guarda, ti metto questo. L'altra cosa che ti crea lo spiritoso è prendere in giro. Noi abbiamo dei difetti. Se li usiamo noi, i nostri, per prenderci in giro da soli, facciamo l'autoironia. Ma se qualcuno usa i nostri difetti per prendere in giro noi, crea tensione, non crea gruppo. L'umorismo è una forza che crea gruppo. Appunto dicevamo la riunione dove stiamo bene insieme. Invece questa cosa crea dei muri. Sì, ridiamo io e te di un terzo, però lui non ride insieme a noi. E quindi questa cosa qua è l'antiumorismo. È un po' come quando lo stand a comedian arriva a teatro e prende le persone in prima fila e inizia a massacrarle. Sì, è un po' una roba vecchia secondo me. Cioè è una cosa che si fa però in un cavare, diciamo, è un po' una roba che a me non piace. Anche in ambito di comicità è una cosa che non amo fare. Anche perché hai delle persone che sono veramente di sinistra. No, e poi non solo la persona, ma tu immagina magari è venuto con la moglie o col figlio che ascolta questa presa in giro costantemente. Cioè crea molto disastro. Cioè ridono tutti però perché non stanno prendendo loro. Certo. Eh sì, ridi perché io sto prendendo in giro lei e tu ridi, però se vengo da te tu non ridi. Quindi quello lì non è tanto umorismo secondo me. Sai che sono andato a Brighton a uno stand-up comedy show e siamo andati in un gruppo e le persone che sono arrivate prima non erano mai state a uno stand-up comedy e hanno detto ah figata abbiamo preso i posti in prima film. Ah lei, ciao. Poi siete fuori. Cioè e quindi capito, un'intera serata dove cerchi di mimetizzarti perché è lì è come dire d'obbligo che uno parte e inizia a massacrarti però non è per niente divertente. A me non piace, sì, a me non piace molto. Certo, questo diciamo è la cosa principale. Poi appunto per coltivare il nostro senso umorismo ci sono dei modi perché noi abbiamo tutti un senso umorismo solo che spesso lo nascondiamo. Ognuno ha le sue sfaccettature e quindi si può sviluppare il senso umorismo. Dicevo prima, l'umiltà è una caratteristica del senso umorismo perché? Perché un modo per svilupparlo è il morphing Cosa significa il morphing? Significa noi non siamo bravi a fare tutto quindi facciamo una specie di morphing e facciamo le nostre le caratteristiche degli altri. Abbiamo un collega un collega più bravo di noi andiamo a vedere in che cosa è più bravo di noi è più bravo perché fa delle presentazioni brillanti è più bravo perché arriva puntuale è più bravo perché si lava è più bravo perché arriva punito al lavoro c'è questo aspetto, io ho vissuto insomma c'erano colleghi che non potessero starci insieme quindi è più bravo di noi in che cosa? Prendiamo quella caratteristica e cerchiamo di farla nostra cioè farla diventare nostra ci modelliamo in quel modo e quindi in quel modo cresciamo e questa è l'umiltà di cui parlavo e un altro aspetto dell'umiltà è il grande fratello io lo chiamo il grande fratello cioè noi quando agiamo al lavoro ma anche nella vita normale adesso io sto parlando con te immaginiamo di essere dentro il grande fratello quindi ripresi dalle telecamere 24 ore su 24 e immaginiamo di osservarci mentre ci stiamo comportando in questo modo ci mettiamo costantemente in discussione quindi stiamo facendo una presentazione ok quindi ci stiamo osservando mentre la facciamo siamo monotoni stiamo guardando sempre la prima fila le ultime file non le guardiamo mai abbiamo sempre lo stesso tono di voce stiamo annoiando le persone dobbiamo fare qualcosa per tirar su l'attenzione quindi mettere una battuta mettere qualcosa in questo modo noi riusciamo a correggere in realtà il nostro comportamento e quello è umorismo perché lì riusciamo a capire come entrare in empatia con le persone c'è un livello anche di attenzione quindi non soltanto perché spesso uno magari quando parla è concentrato solo su se stesso su quello che sta dicendo è l'ego e invece non è attento a quello che sta succedendo e invece deve devi essere in comunione con gli altri per fare umorismo e devi essere anche molto sveglio e questo è una cosa particolare l'umorismo perché devi essere molto informato perché qualsiasi cosa può essere il tuo gancio per fare umorismo la barzelletta per esempio non è umorismo la barzelletta estrae dal contesto che stai vivendo e quindi fa parte dello spiritoso magari lui è bravo a raccontare la barzelletta nel suo gruppo di amici e quindi arriva lì e nella riunione si mette a raccontare la barzelletta ma è noioso perché spesso non le sa neanche raccontare quindi ridi per educazione a volte ridi prima che finisca perché dice quando finisce e non è è astratta dalla realtà contingente l'umorismo è molto legato alla realtà che stai vivendo quindi quando prima è successa una cosa quando lui ha detto Accenture e io ho detto condoglianza ecco quello era umorismo perché io sono molto bravo però ti agganci ti agganci a qualsiasi cosa quindi devi essere devi essere molto sveglio devi avere appunto le antenne belle dritte qualsiasi cosa succedere la devi usare non è un fastidio allora fare umorismo qualsiasi imprevisto che Dio lo benedica esatto perché permette di uscire dallo schema perché se tu ti sei preparato bene tu i tuoi binari da percorrere ce li hai e arrivi fino alla fine l'imprevisto è un bene perché ti permette di uscire dai binari un attimo hai i tuoi criteri per fare l'umorismo quindi non puoi sbagliare se succede qualcosa di strano ritorni sui binari e arrivi alla fine al massimo non hanno riso però se tu non hai offesi se tu non hai fatto lo spiritoso dicono eh non è successo niente però l'imprevisto se tu lo riesci a cogliere e trasformare il tuo tipo fai una presentazione a me quante volte è capitato di assistere a una presentazione di manager delle mie aziende e con grandi platee e magari non andavano le slide è classico è meglio e allora lì ho visto dei disastri ho visto dei disastri queste persone che hanno fatto corsi di tecniche di presentazione presentation skills tutto quanto e andare nel panico perché la presentazione non è quindi magari eh adesso vediamo ora arrivano i tecnici ecco magari se riusciamo a risolvere forse entro Natale con questo povero Cristo che era lì che cercava di essere e insultava cioè prendeva in giro il porno che magari era anche in nero poverino e lui lo denigrava no? in quel modo lì imbarazzo invece quello lì mentre il ragazzo sta sistemando il tecnico quella è un'occasione per prendere contatto col pubblico scendi dal piedistaldo abbassa il tuo status vai dal pubblico vai lì ah beh nel frattempo che esistevano ci conosciamo piacere io sono solo quello che sta facendo la brutta figura grazie capito? ed è un'occasione per fare umorismo e per uscire dallo schema poi dopo ritorni tanto te l'hai studiata la presentazione e poi ti aiuta sulla parte successiva della presentazione perché hai già conquistato anche di più però nel momento in cui scendi esci dallo schema vedi che usi l'autoironia sono quello che sta facendo la brutta figura cioè devi sempre avere questo in testa signor Giovanni siccome mi stanno guardando cinque minuti abbiamo perché più che altro se no devo pagare gli straordinari vorrei evitarmi questo so che frequentavi la Liguria preferirei evitarmi se ne posso dire vogliamo fare un recap avevo visto in fondo avevi forse una avevo fatto un recap non lo so c'è Obama c'è un sacco di roba vedi per esempio lo stress guarda che bello guarda che bello faccio questo esempio come l'umorismo è un potente antistress guarda questo è Mel Brooks gli hanno chiesto a 95 anni qual è il segreto della sua carriera così lunga cosa ha risposto Mel Brooks non morire cioè è una cosa è il potere dell'umorismo che sdrammatizza qualsiasi cosa lui sa bene che a 95 anni poi c'è questa che è molto bella questa è in Italia oggi a Pompeia hanno fatto l'attacca ai resti degli antichi romani e un comico bravissimo ha fatto questa roba l'avevano portata all'Asda e gli avevano detto che c'era un po' d'acconto il comico lo conosco vagamente no il recap vuoi sapere il recap non so se c'era un morismo esterno auteronia conoscere bene i propri difetti per fare auteronia devi sapere bene quali sono se non riuscite a trovarli chiedete a vostra moglie al vostro compagno al vostro collega li saprà di benissimo l'umiltà l'ho detto prima il gioco d'anticipo il gioco d'anticipo cosa significa? una volta che tu conosci i tuoi difetti è utile che li nascondi li metti lì sul piatto e in quel modo c'è un esempio che faccio sempre che è nei miei corsi di training c'è una ragazza c'è una ragazza c'è una ragazza che ha partecipato a uno dei miei training e come ruolo lavorativo aveva quello di telefonare un ruolo telefonico telefonava ai prospect per prendere un appuntamento con il direttore commerciale per parlare di un mestiere un mestiere tremendo infame praticosissimo adesso ci mettono anche il robot oppure io devo capire chi è che risponde al robot però sono cose loro cioè perché spendere soldi a mettere il robot oppure spendere soldi a mettere una persona che non parla bene la nostra lingua a fare un lavoro che è già difficilissimo per uno che parla la nostra lingua questi sono i misteri ma non è il nostro mestiere c'era questa ragazza peccato un ruolo telefonico prettamente telefonico peccato che aveva questa voce così quindi tutti ti senti chiamare appunto come giorno sono Mario Laura chiamo da tu al telefono pensi a uno scherzo radiofonico ha assistito a questa cosa quindi gioco d'anticipo cosa significa mettere sul piatto e giocare d'anticipo sul tuo difetto lei ha detto il mio difetto è questa voce ok quindi cosa ha fatto si ha detto lo sa mi prendono per il culo per questa voce quindi è il mio difetto allora che va a fare chiama mentre il giorno sono Mario Laura chiamo da sì lo so cosa sta pensando questa è la mia voce vera gli abbiamo salvato la vita perché da quel momento ci ha scritto felicissima che la telefonata è in discesa mentre prima c'era questo scherzo dici ma sarà uno scherzo sono una cosa no da quel momento lei è simpatica si è presa in giro parliamo di business non ci sono più dubbi ok questo è il gioco d'anticipo divertirsi improvvisare che non è approssimare cioè ti devi preparare bene se ti sei preparato bene puoi divertirti e quindi secondo i criteri che abbiamo detto puoi fare ironia humorismo quel che l'è se non ti sei preparato bene non stai improvvisando stai approssimando e quello è un'altra cosa sai che ero un periodo dove ho fatto con Rosario Fiorello si sono DJ lui aveva la sua trasmissione mi intanto faccio i miei collegamenti una volta sono andato a Roma da lui che aveva tutto il suo studio casalingo si si e la cosa che mi ha colpito tantissimo è che quando tu senti Rosario in radio o in televisione è uno che dice ah come improvvisa Rosario così invece è una preparazione è un gran lavoratore pazzesce cioè lui è tutto pronto e poi talmente a volte improvvisa effettivamente ma su un carovaccio che ha già in testa e chi allora questo è il professionista e la differenza fra il professionista e quello che lo fa tanto per farlo e lui è un grande professionista perché si prepara molto bene insomma è il lavoro i tempi perfetti cioè è veramente scientifico e quello ti dà la sicurezza poi di poter improvvisare perché se qualcosa va storto tu la battuta l'hai già scritta e sai che quella battuta funzionerà ne puoi improvvisare un'altra cioè fai uno spettacolo a teatro e noi facciamo uno spettacolo a teatro due ore sul palco ok quelle due ore sono scritte riscritte ripassate al setaccio ritestate con la gente con i familiari che non ci sopportano più con una serie di cose e ce le hai sai che funzionano e una volta che ce le hai se succede l'imprevisto se ti viene in mente una cosa tu la provi magari non fa ridere ma magari fa molto ridere e allora la aggiungi però se tu quel canovaccio non ce l'hai che fai? certo e questo significa insomma divertirsi ti diverti solo se ti sei preparato Giovanni sei spettacolare veramente farei un altro ma molto caro ma anche no Giovanni 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 grazie 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 a tutti.